Fedez e Ferragni, quando esce la è la clamorosa scelta su Sanremo. Ufficializzata la data di uscita della nuova stagione di The Ferragnez. La coppia più mediatica d'Italia ha annunciato il ritorno delle reality che li vede protagonisti, il 18 maggio su prime video verranno messe in onda le nuove puntate. Il momento che aspettavamo da tantissimo, hanno detto Chiara Ferragni e Fedez. Aggiungendo una novità. Dopo l'estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Le polemiche dopo Sanremo Chiara Ferragni e Fedez sono stati i protagonisti dell'ultima edizione del Festival della canzone italiana. Tra musiche e polemiche. Dopo Sanremo il cantante è sparito per qualche giorno dai social. Alimentando le voci relative a possibili separazioni. Nella serie verranno svelate nuovi dettagli. Non ci resta che attendere. Virgola. Virgola.